Mi sembra Pablo Picasso con chiara natura. Andiamo a sentire. Cavallo numero 7 Pablo Picasso con Oderso che va a rilevare Omnia Bro il lancio in 15.9. Cavallo numero 10 Paloma Bypass squalificato. Un'ecatombe alla prima curva con molti cavalli fuori corsa. Tra questi Orina Starlight in vantaggio Oderso viene in terza ruota. Adesso probabilmente anche Onir 16.3 di frazione. Olimbiast al centro del gruppo ma Ortica Jet ha anticipato quelli di fuori. Ed è lei ad andare all'attacco del leader all'inizio dell'ultimo chilometro. Paletto in 15.1 Oderso in vantaggio. Ortica Jet in seconda corsia. In terza addirittura Onir che ha scavalcato Olimbiast. Poi Omnia Bro quindi ancora Odisse, Usovi e Piccolit che completa assieme a Orione di Brazzà il gruppo di quelli che contano. 15.5 la frazione. Ritmo selettivo quello tenuto da Oderso. Va un po' indietro Onir che ha fatto la curva in terza ruota e che consente di sgabbiare a Olimbiast. Viene in mezzo alla pista Odisse, Usovi. Si inserisce bene Orione di Brazzà il chilometro con Ortica Jet respinta da Oderso. 15.5 di frazione. Oderso in vantaggio. Poi il gruppo che si dispone a ventaglio. Richiesta Ortica Jet ancora in seconda posizione con Olimbiast che avanza in terza. All'interno Omnia Bro, la curva in 14.7 in vantaggio Oderso. Il finish di Omnia Bro e poi al largo di Olimbiast. All'interno anche Orione di Brazzà nel finale. 3.11 e poi 9.14.8. Il probabile numerico arrivo del Quintè. 1.16 e 6. La vittoria di Oderzo con Gianvito D'Ambroso per la Valle Falconera con Andrea Sarzetto da Trainer. Il numero 11 di Olimbiast.